buongiorno mi chiamo carlo e lavoro presso la serra di flora toscana a fico italy world nonostante questa sia una pasqua insolitamente diversa ci tengo comunque a riproporre alcune tradizioni che sono per me molto importanti ecco come fare per avere una tavola come questa innanzitutto procuratevi fiori di campo come quelli che vedete qua oppure fiori da giardino o altrimenti ricordatevi che tutti i nostri fiori di flora toscana li potete trovare nei supermercati vi servirà inoltre una gallina collaborativa e qualche bambino annoiato fate così mettete la gallina a covare e motivatela nel frattempo sistemate i fiori come ho fatto io accorciandoli allineandoli e preparando un pochino di acqua dentro a dei vasi di vetro come questi tornate dalla gallina e assicuratevi che abbia fatto due uova uguali e rotonde mettete i bambini al lavoro per motivarli sarà probabilmente utile avere delle caramelle a disposizione il risultato è quello che vedete e godetevi una buona pasta